Il prossimo brano è il brano che dà un titolo al disco, dal titolo al mese che stanno vivendo. È un brano che ho scritto e vorrei ricordare una figura molto importante che a me, che tutto ho conosciuto, e che ho poi dedicato a quel disco che è mio padre. È una persona che racconta, insomma, come ho visto io, mio padre nel momento difficile della sua vita, e ho potuto raccontarlo a questa canzone traendo i momenti più importanti e i momenti più positivi di una persona che riesce comunque ad arrivare a un momento negativo in maniera molto positiva, ma facendo vedere a chi è stato questo disco con generazione dedicato a lui, sicuramente che sia stato il tanto. Vai! È bella! No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti